Qual è il simbolo di questa legge di bilancio? Il simbolo di questa legge di bilancio è forse un provvedimento? No, signor Ministro, e lei lo sa. Il simbolo di questa legge di bilancio è un balcone, il balcone di Palazzo Chigi, che si apre per la prima volta dal 1982, allora l'Italia aveva vinto i mondiali, il presidente del Consiglio era Giovanni Spadolini, e vi si affaccia il capo del primo partito italiano, nonché vicepremiere e ministro del lavoro, e urla al mondo che abbiamo abolito la povertà, e urla al mondo che la sfida all'Europa è lanciata, e urla al mondo che non possiamo tornare indietro dal 2,4. La stampa italiana ha considerato il riferimento al balcone come un riferimento legato al ventennio fascista. Sicuramente nella storia italiana tanti sono i balconi, chi di noi è più romantico può pensare a Giulietta e Romeo, anche se l'immagine di Casalino e Di Maio non fa lo stesso effetto. Chi di noi invece conosce un po' di politica economica sa che il balcone evoca per i mercati internazionali, lo sa bene il ministro Tria, l'immagine del peggior populismo, il peronismo, quel modello argentino che ha distrutto la più grande economia, o meglio la numero 4, della prima metà del ventesimo secolo, l'economia argentina. La manovra del popolo è diventata la retromarcia dei populisti e vorrei che restasse agli atti qui, in questo Senato, che avevate vinto le elezioni promettendo la flat tax e la flat tax c'è solo per gli evasori. Avevate vinto le elezioni promettendo il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese per tutti, costo stimato 63 miliardi di euro, di denari aggiuntivi per il reddito di cittadinanza ve ne sono 3, 4 miliardi al massimo. Avevate promesso di abolire la Fornero e siete arrivati al punto di negare l'indicizzazione ai pensionati italiani. Oggi la realtà vi presenta il conto, avete mentito, avete truffato gli italiani il 4 marzo. Lo dico con rispetto innanzitutto ai senatori del Movimento 5 Stelle e della Lega. Quella che è messa in discussione non è la nostra funzione di fare opposizione, può piacere o meno, ma quella è. Quella che è stata messa in discussione con un emendamento al buio che neanche voi avete eletto è la vostra funzione di rappresentanti del popolo italiano. Perché cos'è successo, signor Presidente? È successo una cosa semplice. È successo, e termino ripartendo da quel balcone, che vi considerano bravi per andare a applaudire la notte quando il Vicepresidente del Consiglio deve dare annunci storici all'umanità. Vi considerano in grado di partecipare alla cerimonia corale dell'applauso, ma non vi considerano in grado neanche di presentare un emendamento perché ci pensano i tecnici e gli euroburocrati. Vi considerano soltanto capaci di partecipare ai talk show. C'è un punto che oggi questa legge di bilancio dimostra. A Natale ci sono i doni, questa legge di bilancio porta soltanto i condoni da quello che vediamo, ma c'è un punto che vi deve rimanere impresso per voi e per il prossimo anno. Voi siete il partito di maggioranza di questo Parlamento e di questa legislatura. Voi avete il diritto e il dovere di portare a casa i vostri risultati, ma voi siete stati trattati da questo Governo semplicemente come si tratta il pubblico dei talk show, capaci di applaudire, non capaci di dire alcunché. Potete ingannare tutti una sola volta, potete ingannare qualcuno per sempre, non potrete ingannare tutti per sempre e oggi, con oggi, è finito il tempo del Governo dei populisti.